Cinque in poi, deserto dei tartari proprio, non c'è niente. C, B, B. Senta la crisi del sesto. Bravi, sono preparati eh. E una vita, attraversarlo tutto, si impiega circa tre ore. La passeggiata è fattibile quasi per tutti, solo i primi dieci minuti è abbastanza in pendenza. Ma l'ho visto, c'è niente. Vallevo, tu sei spiglia, che sei lì. Non aggiungerla, sicuramente. Avete voleva dire, tutto lo avete visto, poi lo dovete finalizzare come Garatus.